Vi ringrazio molto, vi chiedo scusa ancora di non essere potuto essere presente con voi per questa discussione, ma mi hanno richiamato al lavoro e quindi devo seguire le pagine del manifesto. In ogni caso sono molto contento di partecipare a questo dibattito perché sono stato colpito diverse settimane fa quando è stato pubblicato sul profilo della GKN, il profilo Facebook, è un documento interessante, quello scritto con gli stati generali LGBTQ+, più disability. Ho intravisto, anzi viene esplicitamente dichiarato e descritto quella che secondo me è un'intuizione politica fondamentale che parla alla nostra attualità e mette in forma l'idea di un nuovo tipo di lotta politica. È un documento che mi ha colpito molto perché dà innanzitutto una nuova definizione di classe, non più o non solo una classe di tipo statistico, senz'altro non un'idea di classe che è la somma di identità separate che mantengono la loro separazione attraverso una somma delle proprie differenze, ma che allude a un'idea di classe politica. Questa definizione, come è noto viene da Marx, conosce una nuova attualizzazione nel dibattito sia italiano ma direi anche internazionale, che emerge da molti movimenti, perlomeno sotto forma di evocazione, pone un problema. Che cosa può diventare, come può essere organizzata e che tipo di politica è una classe politica oggi? E questo interrogativo, io non ho risposte particolari, le risposte non possono altro che venire dalle prassi, dall'organizzazione, dal dibattito, dalle contraddizioni e dai loro analisi, auspicabilmente per superare queste contraddizioni. Però mi limito, e già mi sembra comunque un fatto interessante, al dato culturale e politico. E questa idea di convergenza delle lotte, su cosa convergono le lotte se non, questa è la mia interpretazione, ma spero di non andare molto lontano da quello su cui parlerete più tardi, che convergono all'interno di una nuova idea di classe. E cosa può essere una classe che non è la mera somma delle differenze, dei movimenti, dei gruppi deceti, dei gruppi professionali che in un dato momento, eventualmente per una manifestazione sia pur grande o per un percorso di lotta sia pur importante, e beh, un'idea di classe è un'idea di politica. Questa sembra una definizione minimalista, ma non lo è, perché se messa in prospettiva questo tipo di teoria, è molto, non è esattamente popolare, perché noi viviamo ancora oggi un discorso pubblico che ha celebrato da parecchio tempo, ad esempio la fine delle classi sociali, che si è accompagnato questo tipo di discorso alla fine del lavoro, a causa, ad esempio, di una tecnologia in particolar modo digitale, robotica, che inevitabilmente questo recita il mito, che risorge spesso e volentieri non solo nelle pagine culturali dei giornali, ma anche nei TG, nelle televisioni, insomma è un senso comune, almeno da parte dei dominanti, e che i robot prenderanno i nostri posti di lavoro e chi fa, l'operaio o comunque lavora in un'economia dei servizi povera e terzializzata, non fa altro che collaborare alla fine del proprio lavoro. Questa è una logica delle ingiunzioni paradossali, qualsiasi cosa farai se è destinato a realizzare una profezia che si autovere, in questo caso sarebbe la cosiddetta presunta fine del lavoro. E la stessa cosa è successa con le classi sociali, vivremo oggi in una specie di marmellata in forme, un blob che avanza, tutt'al più la società è composta da ceti, da famiglie, raggruppamenti di interessi, e chiaramente chi invoca un'idea di lotta di classe, sostanzialmente agisce in una prospettiva, come dire, residuale. Invece, questa rinnovata teoria, mettiamola così, di classe politica, esito innanzitutto della convergenza delle lotte, lotte contro l'oppressione, lotta contro lo sfruttamento sul lavoro, lotta contro il razzismo, lotta per il pianeta e i diritti dei viventi, lotta contro il sessismo, il patriarcato, la violenza maschile contro le donne, insomma tutta la vasta area di interesse, di intervento politico che attraversano le nostre manifestazioni, va in senso contrario. Per questo dicevo prima che non è una teoria popolare, ma è un'idea politica. Ebbene, questa idea politica mi sembra di averla riconosciuta, affermata, chiaramente rivendicata e praticata in questo documento, sono molto contento di parlarne qui con Dario Salvetti, perché insomma state facendo, sono buon ultimo, un grande lavoro, voi e tutti gli altri compagni e le compagnie, un grande lavoro innanzitutto culturale, proprio in discontinuità nettissima, chiaramente rivendicata e riflettuta e pensata rispetto a questo senso comune che potremmo definire di natura neoliberale. Secondo punto di questa, per iniziare un po' ad abbozzare la peculiarità di una nuova teoria politica, della classe politica. Ebbene, in una società neoliberale, questo è un dibattito, mi sembra, molto diffuso anche nell'opinione pubblica mainstream, beh, in una società neoliberale siamo stati abituati a separare, a me non è dibattito, mainstream i diritti sociali dei diritti civili. È argomento di discussione, ad esempio, dopo il voto del 25 settembre, in questa psicanalisi di gruppo interminabile e insopportabile del PD, a cui viene rimproverato, tra le altre cose, di avere separato i diritti sociali dei diritti civili. Qui c'è un'insidia, innanzitutto, perché mi sembra, così, riassumendo un dibattito molto ampio, articolato, ma di matrice populistica, che se la sinistra neoliberale, come il PD, ha separato diritti sociali e civili per controllarli, disgiungeli e agire un'agenda politica neoliberale, dalla riforma del Jobsat al non fare sostanzialmente nulla di politicamente rilevante, dal DDL Zan allo Iuscole o Iusori. Un dibattito molto conosciuto, non mi soffermo ulteriormente. Beh, si corre il rischio, perlomeno in un dibattito di matrice e di ispirazione populistica, di dire che il voto del 25 settembre, ad esempio, l'estrema destra postfascista, potrebbe essere l'esito del fatto che Fratelli d'Italia, ad esempio, o comunque una destra metafisica, avrebbe effettivamente proposto nella sua agenda politica una riunificazione di natura reazionaria, evidentemente, dei diritti sociali con quelli della persona. Naturalmente la persona bianca, maschia, dentro un'idea precisa di famiglia. Ecco, nell'ottica di una nuova prospettiva di classe, e con questo, ripeto, intenderei l'idea della convergenza, delle lotte, per essere sintetico, a me non sembra proprio che ci sia una riunificazione dei diritti delle persone con quelli sociali nella proposta dell'estrema destra. Anzi, non solo perché non intendono fare nulla, anzi, peggiorare i diritti civili, ma perché non intendono soprattutto, e questo è il punto qualificante della mia osservazione critica, fare alcunché sui diritti sociali. anzi, intendono approfondire ampiamente le divisioni già ampiamente create con altro tipo di politiche, ma sostanzialmente convergenti, mitiche di natura neolitica, ma di sinistra, dalle jobsat a tutta la fermentazione del mercato del lavoro, la negazione sostanziale di tutela e garanzie sociali di natura universalistica e esplicitare sempre di più il vero contenuto anche delle politiche sociali neoliberali di sinistra, cioè l'impresa. La natura reazionaria, e lo vedremo, basta aspettare poco più di un mese, il momento in cui inizierà effettivamente ad agire il governo Meloni, esplicita il retroterra tacceriano-reganiano sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista fiscale che della gestione in generale delle finanze pubbliche. Tra l'altro, dentro la tenaglia di una crisi drammatica che metterà in serie difficoltà questo governo, già dalle prime settimane di vita. Ebbene, nell'ottica di questa riflessione che io trovo, ripeto, squadernata, ad esempio in questo, come in altre uscite pubbliche, del collettivo di fabbrica GKN, e in altri movimenti, evidentemente, io trovo chiaramente esplicitata la contestazione di questo approccio, questa visione populistica per cui la destra vince perché rappresenterebbe meglio e di più l'unità degli interessi della nazione e la protezione, soprattutto, dei diritti sociali. Che cosa voglio dire? Concludo il mio intervento. Beh, perché nell'ottica di una nuova politica di classe di cui io ho avverto in questo documento una chiara intuizione e anche programmatica, ebbè, c'è la contestazione di entrambi i piani del discorso. Sia quello che ha diviso l'idea di una convergenza tra una politica dell'uguaglianza, una politica della liberazione, una politica dei diritti sociali con quella dei diritti civili, una politica della riforma con quella della rivoluzione sociale, una riforma politica con quella della rivoluzione sociale. Questa è una teoria della classe politica nuova. Beh, secondo me, contesta l'esistente e le varie interpretazioni che sono state date da destra come da sinistra a questo paradigma apparentemente unico che potremmo anche definire per comodità di natura neoliberale. Quindi, per concludere definitivamente, ci troviamo davanti, rovesciamo il nostro punto di vista. Poi, del resto, generosamente, vi ringrazio aver ricordato questo libro Una vita liberata oltre all'apocalisse capitalista, dove sostanzialmente faccio questo, provo a fare questo tipo di analisi che ho anche qui brevamente riassunto. Non siamo alla fine di un mondo per di più assoggettati a una chiara logica catastrofista apocalittica che tende a neutralizzare, rendere passivi tutti coloro che invece vorrebbero essere attivi ma non vedono né orizzonti né obiettivi praticabili in questa crisi. non siamo appunto alla fine di un mondo ma siamo all'inizio di un altro mondo e mi sembra che tra le tante idee possibilità nuovi linguaggi questa idea che ho definito come teoria una teoria una nuova teoria della classe politica ci mostra una tendenza una nuova politica può nascere e sta nascendo se riuscirà a coniugare secondo nuovi equilibri la logica dell'uguaglianza con quella della liberazione. Vi ringrazio. Grazie.